A pochi minuti dal termine il Napoli ha perduto. Ecco il gol di Di Gennaro, protagonista della vittoria viola. Sul primo tiro, prodezza in uscita di Castellini o quasi errore di Di Gennaro, dice il protagonista del gol. Ma si può dire un po' tutte e due le cose, ho fatto lo scambio molto bello, della verità, con Desolati, sono entrato in area e mi è venuto dei crampi ai polpacci. E lì prima di torno non lo faccio più, ho tirato di sinistro e me l'ha rispinta. E nel rimpallo me l'ho trovata all'interno destro e ho tirato. La palla sembrava andasse un po' fuori e alla fine ha girato e è andato nell'angolino. Ecco ora, più che la vittoria di Viola, va spiegata la sconfitta del Napoli. Buon gioco, ottima organizzazione generale per essere in concretezza, doppio stopper, Catellani su sella, Ferrari su Desolati, Vinazzani a guardia di Antonioni, Valente controllore di Orlandini, Pin a chiudere gli spazi come Filippi, Maio filtro, ci siamo già capiti. Il Napoli controllava, non azzardava che raramente. La Fiorentina aveva il torto di portare troppo la palla, di non affondare in area e il Napoli pensava di farcela. Dopo 15 minuti addirittura andava in gol. Vinazzani al centro, Galli esce e rientra mentre Savoldi a zecca. Bel gol. Gioco fatto dunque, nella presunzione partenopea però. La Fiorentina riparte, stesso modulo della palla portata, ma c'è un giovane che ai corsi di addestramento ha appreso che i gol si fanno anche da lontano. Trentaduesimo e Di Gennaro ce lo racconta mentre lo vediamo. E c'è stato un rimpallo, è venuta la palla al limite, mi sono trovato lì, cioè posizione, mi trova quasi sempre e ho tirato di prima intenzione e ho messo dentro. Come il tiro? Piano collo? Piano collo, sì. Piano collo, sì. Gol stupendo che ha preso sul tempo anche i nostri operatori. E il Napoli? Nulla, gioca bene, ma per controllare rischiando molto. Per ora viene graziato dagli induci Viola. Secondo tempo. Peggiora sul piano tecnico, ma qualche azzardo il Napoli lo fa perché i Viola insistono troppo e tentano il gol con Di Gennaro ancora. Ecco gli impegni di Galli. Castellini qui rassicura tutti sulle condizioni della mano, il tiro di sella violento. E questa è l'unica parata di Galli in 90 minuti, sul tiro di Maio. E poi il Napoli sembra pago, la Fiorentina no, pasticcia e noi saltiamo al gol di Di Gennaro, quello dell'inizio che decreta la sconfitta del Napoli. Una Fiorentina meritevole, almeno sul piano della volontà e con un centro campo più solido, sulla buona strada cioè.